Buongiorno ragazzi, allora vi aggiorno dicendovi che tra qualche minuto inserirò la prima lezione di fisica sul settimo capitolo quindi che riguarda le energie oggi vedremo la parte che riguarda le energie e lavoro e poi vi metterò un esercizio come seconda lezione che vi permette di utilizzare quella formula e comunque di effettuare dei ragionamenti che io vi ho fatto vedere nella lezione vi ringrazio tantissimo perché anche questo corso di fisica sta andando alla grande quindi continuate così, iscrivetevi al canale per essere aggiornati ogni volta che vado a inserire un nuovo video perché come tanti di voi sanno lunedì, mercoledì e venerdì mattina ogni volta inserisco sempre due esercizi o lezioni teoriche che vi permettono quindi di conoscere meglio quegli argomenti buona giornata grazie